Ciao a tutti ragazzi, sono Crysis e bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Quello che ho intenzione di andare a fare oggi ragazzi sarà una fattoria messa laggiù, una fattoria degli animali e anche per il cibo. Quindi intanto andiamo a raccogliere tutto questo grano, anche se non è pronto non importa, tanto adesso ci trasferiamo a valle e metteremo tutti i seed laggiù. Ne ho 28 e va bene. Allora, vediamo un po' di riempire intanto anche i buchi, vedo ci sono delle parti scoperte. Volevo fare una specie di fattoria, appunto, con una piccola casetta, magari forse a molti granaio, che comprenderà tutti gli oggetti e le cose che ci serviranno per la fattoria. Perché avevo intenzione sì di fare un magazzino in questa serie, un qualcosa che contenga tutte le ceste e tutti gli oggetti che ci possano servire durante la nostra avventura. Però poi ho pensato, magari se faccio ogni struttura con il proprio magazzino, forse riesco a tenere anche più cose, e anche più ordinate. Per esempio, se qui ci farò una fattoria, ci metterò un granaio con tutti gli oggetti della fattoria. Quindi ci metterò le piante, i seed, tutti i raccolti. Quindi il cibo lo andrò a raccogliere qua, andrò a cercarlo sempre qui. Mentre su altri posti, tipo ora perché ho tutte le ceste in casa mia, ma se dovrò fare una miniera da qualche parte, tutte le cose che mi servono per la miniera la farò laggiù, da quella parte, insomma, dove farò una miniera. Quindi, per fare ciò, abbiamo bisogno anche di una pala, perché voglio fare... Non ho una pala. Allora, craftiamo una crafting table qui provvisoria, che ci servirà giusto per la costruzione di questa farm oggi. Mettiamola pure lontana da tutto il resto, e criamosci una pala. Una pala di pietra. Che questa ci servirà a fare soltanto il sentiero. Dunque, mettiamo a caso che io il granaio voglio fare qui, in questa zona qua. Quindi la fattoria, cioè tutte le piantagioni, potrei farli da questa parte. E pensavo di fare una cosa del genere. Allora, prendiamo tutto l'occorrente, e mettiamolo. Per l'acqua, ora, se mi ricordo bene, dovrebbe funzionare in questa maniera. Per esempio, qui se c'è l'angolo di un... un campo arato, sarà uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre. Un aspetta, mi sto perdendo. Un aspetta, mi sto perdendo. Un aspetta, due, tre. Ricordo che praticamente l'acqua funziona a questa maniera, no? Io potrei mettere l'acqua qui, e dovrebbe funzionarmi per tutti questi. Per tutto questo campo qui dovrebbe funzionarmi l'acqua. Se io pianterò qualcosa in questo quadrato, vedete, infatti sta già cominciando a fertilizzarsi da solo. Adesso, adesso è notte, io tornerei volentieri, intanto in casa, a dormire. Quindi andiamo a letto, e già dal mattino dopo cominceremo a fare questa piccola costruzione. Con l'attenzione di fare più campi, ogni campo per ogni coltura. Ora, perché abbiamo soltanto il grano, quindi magari in più campi, finché ne abbiamo seed, metteremo il grano. Poi, se dovessimo andare in giro, trovare anche un villaggio, con tutte le altre colture, e quelle nuove che ci sono in questa versione, le faremo anche quelle. Poi, naturalmente, per gli animali, visto che qui in giro ci sono parecchie mucche e parecchi polli, comincierei già a fare anche un piccolo recinto per loro. Almeno per le mucche, per avere intanto tanta pelle, se un giorno dovremo craftarci dei libri e quant'altro. E poi per il cibo. Il cibo, che dobbiamo averlo in grandi quantità, almeno agli inizi del gioco. Quindi, due, tre, quattro, e un altro quadrato di qua. Questo blocco d'acqua dovrebbe funzionare a questa maniera. Due, tre, quattro, dovrebbe riuscire a fertilizzare un campo intero di, credo, otto per otto. Dovrebbe essere un otto per otto. Se non dovessero essere così, lo diminuiremo di un blocco. Perché non mi ricordo sinceramente quant'era. E poi, quello che ho intenzione di fare, ogni campo, ora per il momento, per tutti i seed che abbiamo, ci basterà soltanto questo. Però, più avanti, magari qui, spianerò la zona per farci un altro campo. E quello che andremo a fare sarà proprio questo. Creare un sentiero tutto intorno ai campi da coltivare. Un sentiero che poi congiungeranno tutti qua al nostro granaio. E sarà una cosa un po' più carina, perché in questa nuova versione possiamo fare questo, invece di fare sentieri interamente in cobblestone, o ghiaia, quello e quant'altro possa trovare. Allora, qui si sta fertilizzando tutto e mettere già le piantine nei punti già fertilizzati. Poi vi voglio ricordare che se, qualora non lo sappiate, di notte abbiamo bisogno di luce, perché le culture crescono soltanto di giorno, visto che c'è la luce del sole. Di notte non vanno avanti, cioè si fermano. Quindi, io pensavo di fare una cosa del genere. Può mettere la slab accanto. In modo che, come vedete, sotto l'acqua resta, comunque. Però qui possiamo tranquillamente camminarci sopra. Ok? Ora, per il momento posso lasciare anche così, intanto qui possiamo rifare questo. Poi più avanti, possiamo benissimo pensare di fare una costruzione un po' più differente. Per il momento io posso mettere anche una torcia qui, in modo da illuminare questo quadrato anche di notte, e fare in modo che le culture continuino a crescere. Probabilmente sarà più carino farci uno spaventapassere, quindi se riusciamo in giro a trovare anche una zucca, possiamo metterci una zucca con una luce all'interno per creare una zucca di Halloween. e fare una cosa un po' più carina e figa per questa costruzione. Naturalmente, se abbiamo anche del bone meal, sarebbe perfetto utilizzarlo in queste culture se siamo a corto di cibo. come vedete, fa molto presto a crescere. In questo modo avremo del grano per chiararci del pane e nuovi seed per continuare la piantagione. Ora, per il recinto degli animali possiamo fare una cosa provvisoria da queste parti. Andiamo un po'. Possiamo farlo benissimo anche qui. Direi proprio di sì. Quindi qui possiamo spianare un pochino. e poi l'erba rinascerà da sola in pochissimo tempo perché ce ne abbia da 80. Si trasmetterà da blocco a blocco e non c'è nessun problema. Qui posso pensare di fare un piccolo recinto per mettere dentro delle mucche. Ora, per il pollaio non so se già fare una farm automatica di polli oppure fare direttamente un pollaio tranquillo come nella serie scorsa iniziare in quel modo e poi più avanti pensare di fare una farm automatica. Tanto la lava se non sbaglio già ce l'ho quindi non ci sarebbero neanche problemi per quello. Ora non so quante fence possano venire perché ho pochissimo legno. Ho pochissimo legno e non credo di fare abbastanza fence. Ne ho fatte 8. Ne voglio andare con 8. Dopo tutte parti. Andiamo un po'. 2, 2, 3, 4. Una cosa molto piccola molto piccolina quindi andiamo ancora a zappare un po' di roba dovrei averci un'ascia e invece non ce l'ho. Non ho un'ascia. Bastoni mi sono rimasti? Mi sono rimasto un cavolo. Sì, 4 bastoni. Ok. Possiamo fare anche un'ascia. dovremo essere pronti quindi sta calando di nuovo la notte se non sbaglio quindi dobbiamo anche muoverci a meno a finire questa ostruzione poi andremo a cercare qualche qualche mucca e già la mettiamo qua dentro. Vedremo da mangiare così il giorno dopo saranno belle felici. ok vediamo anche questo muoviamoci davvero perché qui si spawna anche i per io mi cazzo come una bestia ma già una ragazzi vi andiamo a letto ok qui possiamo metterci anche il cancelletto e all'interno metteremo tutte le nostre mucche quindi adesso serve il grano e con il grano possiamo attrarre trarre le mucche che di solito le trovo anche da questa parte almeno qua l'ultima volta ce ne erano tante ora scommetto ah una ce n'è due necine si sono le ho già viste qualcuna perfetto oddio sarà una tragedia riuscire a portarle qua che non salteranno mai invece si wow non pensavo dai entra qui ok la mangiate lo do dopo chiusa dai t'abona ok qua sopra prima c'era un'altra mucca ma ora cioè morirà prima che arriva giù sicuro perché vai oh ce ne sono altre di mucca bene ci sono anche una pecora in un momento vabbè ce ne basta anche così se riesco a portarne altre due nooo non aveva paura di saltare andiamo tu torna su ha pillato un culo la fai a salire tu ce la farai a fare questa salita da non mi fate perdere tempo rende rende il primo passo è andato c'è anche un'altra mucca là su vabbè alla fine ce ne basta soltanto due io di cibo per il momento ce ne ho già 10 quindi non mi cadere ti prego no non lo fare prego non mi cadere le sotto oddio che sbaglio stavo per fare ok dai che ci siamo quasi ehi so che c'è l'erba alta non mi vedi oh perché sono questi rincoglioni queste mucche allora oh bra dai ci siamo quasi oh su dai c'è le fidanzati novi che ti asperta dai dai dentro dentro da brava bravissima bravissima adesso mangia tu mangia tu fate un vitellino benone achievement get repopulation yuhuu benone ragazzi io direi che per oggi posso concludere qua anche questo video adesso non mi metterò a cercare di portare più mucche possibili e anche altri animali se riesco e nel prossimo video vi farò vedere come è già diventata questa costruzione metterò un po' anche a spianare tutto il resto per fare una cosa un po' più figa e cominciare a fare tutti i sentieri che porteranno poi al granaio farò magari una specie di base di questa costruzione se anche questo video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale se non è ancora fatto noi ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti ragazzi grazie a tutti i nostri